La San Cataldese scivola all'ultimo posto della classifica del Gironei di Serie D dopo la sconfitta subita domenica a Castrovillari. La quinta battuta d'arresto in sei giornate. Un ruolino di marcia disastroso che preoccupa non poco la tifoseria verde-amaranto. Nell'ultima trasferta a Calabra basta un gol alla squadra locale per chiudere la partita. Affirmare la rete decisiva del match è trovato al quarto d'ora della ripresa. I risultati della sesta giornata Canicattì-Trapani 2-2 Castrovillari-San Cataldese 1-0 Acireale-Realla-Versa 0-0 Sant'Agata-San Luca 4-1 Cittanova-Ragusa 1-4 La Mezzia-Santa Maria 0-1 Locri-Vibonese 1-5 Paternò-Licata 0-1 Mariglianese-Catania 1-2 La classifica Catania 18 punti La Mezzia 15 Vibonese 13 Ragusa 12 Real-Aversa 11 Sant'Agata e Locri 9 Acireale 8 Santa Maria Trapani-Canicattì e Castrovillari 7 Licata 5 Paternò e Cittanova 4 Mariglianese-San Luca e San Cataldese 3 In eccellenza un'altra sconfitta per la Nissa la seconda di fila, la quarta dall'inizio del campionato. Stavolta al Palmintelli passa la Mazzarese con il minimo scarto, ospiti in gol al ventottesimo del primo tempo sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Benivegna sorprende l'intero reparto arretrato biancoscudato e di testa manda la sfera alle spalle del portiere nisseno. Sull'1-0 la Nissa costruisce poco, mentre la Mazzarese si limita ad amministrare l'esiguo vantaggio. Al triplice fischio finale ancora delusione profonda tra i tifosi della Nissa per l'ennesimo passo falso della squadra del cuore. Amareggiato il tecnico Davide Boncore, il suo commento a fine partita anche sulla pagina Facebook biancoscudata. Il più grande dispiacere che posso avere è non regalarci una gioia a questo pubblico di oggi. Il più grande dispiacere, il più grande rammarico che me ne sto andando a casa, col più grande rammarico che però ne ho parlato con la società, che sto facendo di tutto per rispecchiare il mio carattere. Il mio carattere è quello di vincere tutti i duelli. A Cessare non critico il passaggio sbagliato. Vincere i duelli, vincere l'1-1, l'1-1, vincere. Che questo a oggi ancora non lo vedo. Quindi mi assumo le mie responsabilità, perché quando non c'è questo, per un allenatore è un fallimento. Però prima di arrivare al fallimento mio, personale, di lavoro, l'unica cosa che dico al pubblico, alle persone che ci... giustamente i tifosi si fanno chilometri, vengono a fare e dire, è che farò di tutto, farò di tutto per cercare di riuscirci a farlo, come ho fatto nei 12 anni precedenti di passato. Sono convinto e forte che ci riuscirò, perché ho avuto un colloquio con la società, e siamo nella stessa linea, siamo nella stessa linea, che mi sono assunto le mie responsabilità, e solo col lavoro, oltre al lavoro, ci vuole la fame. I risultati della sesta giornata. Casteldaccia, Profavara 0-1, Don Carlo, Enna 1-1, Leonfortese, Gela 1-0, Mazzara, Castellammare 3-1, Nissa, Mazzarese 0-1, Oratorio Marineo, Parmonval 1-0, Resultana, Cus Palermo 2-0, Sciacca, Acragas 0-4, La classifica, Acragas 16 punti, Enna 14, Don Carlo, Mazzarese, Profavara, Sciacca 12, Mazzara 11, Casteldaccia 10, Cus Palermo e Castellammare 6, Oratorio Marineo 5, Parmonval, Nissa, Leonfortese, Resultana 4, Gela 2.